Quindi tutte quante i gruppi si giocano la più importante e anche gli altri sei, cioè tutti i dieci gruppi potranno vincere altri premi, buonasera Ci saranno altri premi come il primo della giuria critica, della giuria scenica, il primo del pubblico appunto, insomma E' ancora tutto aperto, io vi lascio a loro perché ho già parlato abbastanza Un bel applauso ancora, loro sono in bed Buonasera Poppate il culo Il capo dell'autostica lo collega a Santo Caletto Ce la fate? Che vai a Pantano dei Rossi che hai? Che è me? Che è me? E' mad! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.